Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi ha lasciata senza parole. Per la prima volta sono qui e posso narrarvi un caso in cui gli assassini sono dei ragazzini. Prima di iniziare con questo caso è necessario ringraziare lo sponsor. Per me è un vero e proprio onore aver provato il loro servizio. Sicuramente continuerò ad usarlo e vi sto parlando di HelloFresh. HelloFresh è un servizio che vi permette di ricevere direttamente a casa una box con all'interno degli ingredienti per realizzare sempre piatti diversi e gustosi. Vi arriveranno gli ingredienti già dosati con, in allegato, le varie ricette da seguire. Cucinare in questo modo, anche per i più pigri, diventa più semplice. Perché non c'è la necessità di scervellarsi per trovare una ricetta. Non c'è la necessità di andare a fare la spesa per comprare gli ingredienti. Ma soprattutto, cosa che mi preme molto dire, si evitano gli sprechi. Insomma, a me capita molte volte di cucinare qualcosa ma di sbagliare nelle quantità. E se né io né il mio compagno abbiamo voglia o non ci ricordiamo di mangiare ciò che ha avanzato il giorno successivo, ci tocca buttar via tutto. Con HelloFresh potrete scegliere tra diversi menu, come ad esempio il menu dietetico. Per chi segue una dieta è assolutamente adatto e, anche in questo caso, non è necessario scervellarsi per trovare ricette light da cucinare. Ma non è finita qui, ci sono altrettanti menu come cucina vegetale, classici italiani o ancora cucina internazionale. La cosa, a mio avviso, davvero interessante di questo servizio è che i menu cambiano ogni settimana. Ve lo dico chiaramente, secondo me HelloFresh è un servizio che vi semplificherà davvero la vita. Avrete il piacere di mangiare ottimi pasti, sempre diversi, con ingredienti di ottima qualità, freschi e selezionati da fornitori locali italiani. Ma cucinati da voi, con le vostre mani. Ammetto che questo servizio mi ha aiutato moltissimo. Io amo cucinare, ma spesso non ho tempo e quindi alla fine mi ritrovo a cucinare sempre gli stessi piatti. Quindi, ve lo dico di nuovo, questo servizio per me è stato davvero utile. Se volete provare anche voi HelloFresh, cliccate sul link che vi lascio sia in descrizione che bloccato nel primo commento. Scegliete tre piatti che volete cucinare tra le proposte che ci sono ogni settimana, inserite l'indirizzo in cui volete ricevere la vostra box e selezionate il giorno e l'ora in cui preferite che ve la consegnino. Inoltre, usando il mio codice sconto HelloOcchio, otterrete 65 euro di sconto per le vostre prime tre box. A costo di essere pesante, lo ripeto, ho amato davvero questo servizio. Credo sia molto utile, a differenza di tanti altri servizi. Ecco perché ho deciso di proporvelo. Spero che lo amerete quanto l'ho amato io. Ma ora passiamo immediatamente al caso di oggi. Nell'aprile del 2016, Kim Edwards e Lucas Markham balzano agli onori della cronaca, diventando gli assassini più giovani della Gran Bretagna. Hanno entrambi 14 anni. Ma andiamo con ordine. Kim Edwards vive con sua madre, Elizabeth, e sua sorella minore, Katie, a Spaulding, nell'Incolsha. Quando ha solo sei anni, nel 2006, sua madre le dà un pugno in faccia a seguito di una discussione innocua. Così Kim e sua sorella, Katie, vengono date in affido per quattro mesi. Quando tornano con loro madre, la situazione cambia drasticamente. Kim ed Elizabeth litigano sempre più spesso. A quanto pare, la ragazza minaccia ripetutamente di scappare. Mentre sua madre se la prende sempre con lei. La insulta. Le dice cose orribili. E in effetti lo fa col solo scopo di ferire i suoi sentimenti. Sembra quasi che la voglia far star male intenzionalmente. Nel 2013, Kim dice a degli assistenti sociali che sua madre ha provato a strozzarla e poi a strangolarla. Le affermazioni però vengono immediatamente contestate sia da Elizabeth, sua madre, che da Katie, sua sorella minore. Quindi l'assistente sociale non può far altro che chiudere il fascicolo. All'inizio del 2015, Kim lascia un biglietto d'addio in bella vista in casa sua. Vuole tentare il suicidio e quando sua madre trova il biglietto, fa in modo che Kim sia posta sotto una custodia psichiatrica d'emergenza. I medici però durante la sua permanenza all'ospedale non notano segni di disturbi mentali. Di conseguenza la rilasciano in breve tempo. Nell'agosto dello stesso anno, gli assistenti sociali riferiscono che il rapporto tra Kim e sua madre è leggermente migliorato. Tuttavia, la ragazza si sente esclusa dal triangolo familiare. C'è da dire però che Kim non è che abbia problemi solo con sua madre. Suo padre biologico se ne era andato abbandonando la famiglia quando lei era ancora molto piccola. Sua madre quindi si era risposata, ma lo aveva fatto troppo precipitosamente e con l'uomo hai mai sbagliato. Infatti ben presto il secondo marito di Elizabeth si era rivelato un uomo violento, alcolizzato e con grossi problemi di dipendenza. Elizabeth quindi era fuggita, cercando posto in vari rifugi per donne maltrattate nel tentativo di scappare da quella relazione abusiva. Di base Kim crede fermamente che sua madre non l'ami e preferisca sua sorella Katie che è di un anno più giovane di lei. La ragazzina cova un profondo risentimento, è gelosa della relazione che c'è tra Katie, sua sorella, ed Elizabeth, sua madre. Si sente messa in disparte, sente di non essere calcolata. In pratica Kim è convinta che sua madre sia molto più affezionata a sua sorella minore. Ma ora passiamo al secondo protagonista di questo tremendo caso, ossia Lucas Markham. Anche lui vive un'infanzia travagliata e i suoi genitori hanno una relazione molto violenta che li porta a divorziare e a non essere in grado di prendersi cura di loro figlio Lucas e dei suoi fratelli. Ben presto quindi Lucas e i suoi fratelli vengono dati in affidamento e quando Lucas ha 4 anni lui e i suoi fratelli vengono accolti da una zia. All'età di 5 anni Lucas perde sua madre a causa della leucemia e il rapporto tra Lucas e suo padre è praticamente inesistente in quanto è un uomo violento ed è anche un alcolizzato cronico. A scuola Lucas è bravo, si dimostra intelligente, ama molto la matematica ma soffre spesso di attacchi d'ira. Più cresce, più perde il controllo. A scuola litiga sempre più spesso con i suoi compagni e col tempo questa situazione non fa che peggiorare. Tanto che Lucas arriva a provare a fare delle risse anche con i suoi insegnanti. Kim e Lucas si incontrano per la prima volta alla John Glebe High School quando il ragazzo lancia una sedia contro il muro della classe in un impeto di rabbia. Kim dice di essersi innamorata di Lucas proprio in quel preciso istante. Insomma, come lanciava le sedie lui contro il muro, nessuno mai. Nei mesi successivi i due diventano inseparabili, sviluppano una relazione molto intensa, sia fisicamente che emotivamente. Si mettono insieme ufficialmente nel maggio del 2015. Questi due ragazzini credono di non avere nessun altro al mondo su cui fare affidamento, se non l'uno sull'altro. Nel frattempo Elizabeth, la madre di Kim, non è assolutamente contenta di questa situazione. Lucas e Kim sono a malapena entrati nell'adolescenza, quindi Elizabeth è convinta che siano troppo giovani per avere dei rapporti intimi. E in generale anche per avere una relazione. Per di più, sua figlia Kim, da quando ha incontrato Lucas, non ha fatto altro che peggiorare, diventando ancora più arrogante e scontrosa. Quindi Elizabeth esorta sua figlia a concludere la relazione con Lucas. Ma questo, detto onestamente, peggiora solo le cose. Kim, ovviamente, non dà assolutamente retta a sua madre, non lascia Lucas e, per giunta, inizia anche a portarlo a casa. Quindi Elizabeth prende una decisione ancora più drastica. Impedisce a Lucas di entrare in casa sua. Di tutta risposta, la giovane coppia inizia a incontrarsi in giardino. Elizabeth si preoccupa anche di chiamare la scuola per chiedere di tenere i due ragazzini separati, cosa che ovviamente la scuola non fa. Kim e Lucas continuano a stare vicini, quando possibile, durante le ore scolastiche. Elizabeth, infine, descrive la coppia come una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. Le tensioni, chiaramente, col tempo continuano a crescere. E nell'ottobre del 2015, Kim e Lucas sono decisamente stufi di non potersi vedere quando gli pare a loro. Quindi decidono di scappare. Ci vogliono ben sei giorni per ritrovarli. Sono accampati in una tenda nei boschi a nord di Spalding. Elizabeth, a questo punto, ha perso totalmente la pazienza ed è furiosa. Vieta, quindi, categoricamente a Kim di vedere Lucas. Arriviamo al marzo del 2016, quando Kim inizia ad andare da uno psichiatra, in quanto aveva assunto una quantità immonda di antidolorifici per tentare di togliersi la vita. Dice al medico che la sua vita ormai era diventata, testuali parole, un inferno vivente. Perché non poteva vedere Lucas e odiava così tanto sua madre. Dice anche queste esatte parole allo specialista da cui è in cura. Voglio vendicarmi per il modo in cui mi tratta. Io ormai non provo niente per mia madre. A questo punto Lucas dice a Kim che l'unico modo per risolvere i loro problemi è uccidere Elizabeth, la madre di Kim, e Katie, la sorella minore di Kim. Inizialmente i ragazzi hanno sostenuto che l'idea di uccidere le due fosse nata come una fantasia oscura su cui scherzavano. Un giorno però Lucas aveva ripetuto a Kim che avrebbe voluto uccidere Elizabeth e Katie. E Kim senza neanche pensarci troppo aveva risposto, ok va bene. Inizialmente Kim aveva pensato che anche in questo caso Lucas stesse scherzando. Poi però aveva capito che Lucas in quel caso era molto serio. Quindi aveva iniziato anche lei a prendere in considerazione l'idea. Quindi quella che era iniziata come una semplice fantasia contorta aveva preso forma e si era tramutata in una tremenda realtà. Arriviamo dunque a lunedì 11 aprile 2016. Lucas, che ora ha 14 anni, esce per andare a casa di Kim. Nel suo zaino, avvolti in una maglietta nera, ci sono quattro coltelli da cucina. Quando arriva sul retro della casa di Kim, decide di arrampicarsi fino ad arrivare alla finestra della sua camera da letto. Poi bussa tre volte alla finestra di quella camera da letto, che tra l'altro Kim condivide con sua sorella. Lucas però non riceve risposta. Attende mezz'oretta, fino a quando non si accorge che Kim sta dormendo profondamente e lui non può fare casino per svegliarla. Prima di tutto perché in camera con Kim dorme anche sua sorella, ma soprattutto perché potrebbe svegliare Elizabeth, la madre di Kim e Katie. Così Lucas, quella notte, torna a casa. La notte successiva, martedì 12 aprile 2016, bussa nuovamente alla finestra della camera da letto di Kim. Ma anche in questo caso lei non lo sente. Arriviamo quindi a mercoledì 13 aprile 2016. Lucas non si arrende e di nuovo torna a casa di Kim. Questa volta la ragazzina è sveglia, quindi si sposta in bagno dove apre la finestra da cui fa entrare il ragazzino. Appena dentro casa, Lucas la guarda e le chiede se è sicura di volerlo fare. Kim annuisce ma alla fine non riesce materialmente ad entrare nelle stanze per uccidere sua madre e sua sorella, quindi se ne occupa Lucas. Kim quindi aspetta in bagno mentre Lucas entra nella camera da letto della 49enne Elizabeth, ossia la madre di Kim. Kim però si accorge che Lucas non sta seguendo il piano che hanno formulato metodicamente. Quindi gli sussurra, Lucas togliti le scarpe, così non ti senti, ti ricordi che ne avevamo parlato? Lucas da retta a Kim, ovviamente, e si sfila le scarpe. Riesce a raggiungere il letto senza svegliare Elizabeth, la guarda per un minuto e poi inizia ad accoltellarla. Elizabeth si sveglia e chiaramente prova un minimo a lottare per difendersi. Gli graffia la faccia e la schiena, ma Lucas riesce a colpirla per cinque volte alle mani, mentre le ultime due coltellate le recide quasi completamente la trachea. Kim a questo punto è stufa di rimanere in bagno, quindi entra nella stanza di sua madre Elizabeth e si rende conto che c'è sangue ovunque, c'è sangue sul letto, c'è sangue sulle pareti. Lucas esclama di andarsene, di chiudere la porta. Invece la ragazzina si avvicina al letto rendendosi conto che la mano di sua madre sta cercando la sua e Kim in tutta risposta le prende la mano e gliela tiene stretta, rimane seduta sul pavimento vicino alla porta. Passa qualche minuto, poi Kim inizia a fare dei respiri davvero molto profondi, perché sta per avere un attacco di panico. Le gambe iniziano a tremarle, quindi Kim lascia la mano di sua madre e inizia a camminare avanti e indietro. Dal corridoio fino a rientrare nella stanza. Si ripete nella testa che tutto andrà secondo i piani, ma che soprattutto, presto, tutto sarà finito. Alla fine Lucas si mette su Elizabeth a cavalcioni e le preme un cuscino sulla faccia. La donna a questo punto perde definitivamente la vita. Elizabeth non si dimena più, ma continua ad emettere dei suoni gutturali. Tanto che Kim chiede a Lucas, scusami, ma è morta davvero? Lucas quindi controlla il polso di Elizabeth e si assicura che sia davvero morta. Poi i due ragazzini si spostano nella stanza a fianco, ossia la camera da letto che Kim divide con sua sorella Katie, di 13 anni. Anche in questo caso Lucas ha coltello a Katie diverse volte alla gola, prima di soffocarla con un cuscino. Kim riesce a sentire le ultime parole pronunciate da sua sorella prima di morire, ossia non riesco. Probabilmente, poverina, voleva dire non riesco a respirare. Kim e Lucas dopo questa mattanza avevano preso in considerazione l'idea di togliersi la vita. Insomma, in questo modo nessuno avrebbe mai più potuto separarli. In realtà i due decidono di farsi un bagno per ripulirsi dal sangue. Una volta concluso il bagno decidono di trascinare il materasso del letto di Kim al piano di sotto, davanti alla televisione. Mangiano dolci e gelati a volontà, hanno parecchi rapporti intimi e poi guardano tre film di seguito della saga cinematografica Twilight. Ecco perché la stampa ha ribattezzato la coppia assassina The Twilight Killers. In italiano, gli assassini di Twilight. O meglio ancora, gli assassini del Crepuscolo, perché Twilight, se non erro, vuol dire crepuscolo. Ma adesso arriva la parte più, a mio avviso, agghiacciante. La giovane coppia rimane in quella casa per le successive 36 ore con i corpi di Elizabeth e Katie nelle stanze al piano di sopra. Nessuno dei due prova a liberarsi dei corpi. A dirla tutta, non ci pensano neanche a liberarsi dei corpi e non pensano neanche di scappare. Questo potrebbe voler dire che di base volevano essere beccati. Prima o poi li avrebbero trovati arrestati e loro lo sapevano bene. Ovviamente l'assenza di Kim e di Katie viene notata immediatamente a scuola. Inoltre la zia di Lucas denuncia la sua scomparsa alla polizia. Così la polizia inizia a indagare. Si presenta a casa di Kim, ma nessuno apre loro la porta. Quindi sono costretti a fare irruzione per accedere alla casa. Il primo ad entrare in casa è l'ufficiale Alistair Pallen. Trova i due adolescenti ancora sul materasso, in soggiorno. Chiede dove sia la signora Elizabeth Edwards. E Lucas, guardandolo dritto negli occhi, gli risponde in modo freddo. Perché non sale a guardare? Così la polizia sale al piano di sopra e ben presto trova i corpi senza vita di Elizabeth e di Katie. L'odore in quelle stanze è tremendo e opprimente e il sangue è davvero sparso ovunque. Durante gli interrogatori con la polizia, entrambi i ragazzi dimostrano di non provare il minimo rimorso per ciò che hanno commesso. Sembra davvero non stiano provando alcuna emozione. Quando i detective chiedono a Kim come si senta a seguito di questi omicidi, la ragazzina risponde. Mi va bene. Il fatto che sia successo così in fretta mi ha dato pace, devo essere onesta. Perché per me quella situazione era una tortura. Né io né Lucas ci sentiamo in colpa per questo. Mia madre ora non deve più prendersi cura di me. Non deve più preoccuparsi se tento il suicidio. Non deve più svegliarsi ogni mattina preoccupata che io non sia più in vita. Se proprio devo dirvelo, se lo meritava. Ed io, sono felice che sia morta. Il detective Martin Holvey, che ha guidato l'indagine sull'omicidio, ha dichiarato Gli effetti collaterali effettivi sono probabilmente i più agghiaccianti. Ciò che è accaduto in quelle 36 ore successive al duplice delitto è agghiacciante. Sono totalmente d'accordo. Si sono comportati normalmente, hanno guardato la tv, hanno guardato più di un film, sono andati in continuazione al piano di sopra per usare il bagno, mentre Elizabeth e Katie giacevano morte nelle loro stanze. È assurdo tutto ciò. Avrete capito che i detective, anche quelli più anziani, rimangono sbalorditi dagli atteggiamenti disinvolti di quei due ragazzini. Anche il professor David Wilson, specializzato in criminologia, sostiene che i due ragazzini presentino una completa mancanza di rimorso ed empatia. Ciò diventa ancora più evidente durante il colloquio di Kim con la polizia. La ragazza parla del suo rapporto travagliato con la madre e dice che sua sorella era sempre stata la figlia preferita. Poi aggiunge in un secondo momento che effettivamente le manca la sua sorellina, ma doveva morire anche lei, in quanto non sarebbe stata in grado di far fronte alla morte di loro madre. La psicologa Emma Kenny sostiene che le travagliate vite domestiche della coppia e la costante sensazione di non essere amati li hanno attirati l'uno verso l'altro. I due ragazzini si sentono degli estranei nei loro nuclei familiari. Quindi quando si sono incontrati e si sono trovati, si è verificato qualcosa di molto specifico che in qualche modo li ha collegati profondamente sia a livello fisico che a livello emotivo. La psicologa Emma Kenny inoltre aggiunge queste esatte parole in un'intervista. C'è qualcosa che manca in Kim quando parla. Parte di questo deriva dai suoi problemi di attaccamento e dal fatto che si è sentita maltrattata. Se a ciò si aggiunge un po' di bassa empatia e il desiderio di non perdere qualunque cosa lei e Lucas abbiano, le conseguenze sono terribili. Si tratta di ragazzini che si comportano come pensano che si dovrebbero comportare gli adulti, sbagliando sempre. E in effetti questi due adolescenti sembravano vivere in una sorta di irrealità. I loro comportamenti indifferenti e irriverenti dopo l'omicidio, così come le loro confessioni sul come e perché si sia verificata questa tragedia, mostrano una disconnessione con la realtà, fredda e terrificante. Il modo in cui questi due adolescenti si sono spinti l'un l'altro verso l'omicidio è davvero incredibile. Sembra abbiano una scarsa comprensione della realtà e della morte, ma anche delle conseguenze delle loro azioni. Come già vi ho detto, all'inizio Lucas ha sostenuto che tutto era partito da uno scherzo che poi si è trasformato in un duplice omicidio. La difesa durante il processo aveva provato a sostenere che Kim soffrisse di un disturbo mentale, ma i tribunali avevano respinto il fatto secondo cui Kim soffrisse di un disturbo dell'adattamento, sostenendo che l'omicidio era stato pianificato nel dettaglio precedentemente. Inoltre Kim era in grado di capire cosa stava facendo durante gli omicidi. Un consulente di psichiatria forense durante il processo dice Se i due non si fossero mai messi insieme e non avessero avuto una relazione intensa e tossica, gli omicidi non sarebbero mai accaduti. C'è chiaramente un omicidio ben pianificato e controllato, c'è il controllo ed è presente fino in fondo. Si sentivano un po' come Bonnie e Clyde, avevano quel tipo di attrazione intensa, quel tipo di vicinanza emotiva erano loro, da soli, contro il mondo. Sia Lucas che Katie sono stati processati al Nottingham Crown Court. Nel novembre del 2016 e giudicati colpevoli. Il giudice Haddon Cave ha condannato entrambi gli adolescenti a vent'anni di reclusione. Pena che è stata ridotta a 17 anni e mezzo a seguito di un appello dell'estate successiva. In realtà il giudice ha sostenuto che, secondo lui, probabilmente uno dei due ragazzi si sarebbe messo nei guai durante la detenzione, aggiungendo anni di carcere da scontare oltre ai 17. L'uomo è convinto che andrà in questo modo per le difficoltà che si possono incontrare durante il recupero di adolescenti con tendenze psicopatiche. Infatti aggiunge queste esatte parole. Possono essere riammessi nella società? La vedo molto difficile. Dopo quello che hanno fatto, che è una cosa che ti cambia radicalmente la vita, specialmente per la ragazza, che l'ha fatta la sua famiglia. In generale credo che per i bambini e gli adolescenti che hanno questo tipo di tratto psicologico sia molto difficile cambiare il modo in cui si comportano. È difficile stimolare loro l'empatia. E se non provi empatia è difficile che qualcuno ti convinca a comportarti bene. È qualcosa di biologico. Se non provi la paura o la tristezza, come puoi capire i sentimenti di qualsiasi altra persona? Ragazzi, questo caso mi ha lasciata particolarmente sconvolta per quello che hanno fatto i due ragazzi dopo aver commesso gli omicidi. Ci vuole un bel coraggio a passare 36 ore chiusi in una casa in cui sono presenti due cadaveri, mangiando gelati, guardando film e facendo finta che non sia successo niente. Ma voi cosa ne pensate di questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Nel frattempo io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Basta che non facciate nulla di criminale.